Weeeh! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weeeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Sono XIUDER e ragazzi oggi il video è veramente qualcosa di incredibile! Di solito non lo dico, a meno che non ci sono cose assurde, ma oggi pelle d'oca! Parleremo ragazzi dell'evento del Rocket, o meglio, di tutto quello che c'è stato dietro l'evento del Rocket! Io sono rimasto a bocca aperta quando ho letto le notizie che sto per darvi! Un lavoro di Epic Games che è un qualcosa di inimmaginabile e assurdo anche da concepire per me, per te e per molti di noi! Parleremo però anche di alcuni leaks interessantissimi sulla nuova modalità parco giochi, potremmo chiamarlo direttamente il nuovo parco giochi, vi farò vedere le prime informazioni e poi attenzione perché sembrerebbe che stia per arrivare una nuova rarità, o meglio, una particolarità nelle rarità leggendarie delle skin! Quindi ragazzi, video veramente assurdo! Prima però volevo ringraziare tutti quelli che utilizzano il mio codice creator, XIUDERONE! Grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop quando scioppazzate di prepotenza, mi raccomando, iscrivetevi tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live! Ma prima, eh ve la, ve la, ve la devo fare, la domandina raga, la domandina ve la devo fare, anche ieri mi avete risposto in tantissimi nei commenti però, quella di oggi è molto particolare, non ve l'ho mai chiesto e ve lo voglio chiedere, ma preferisci le singolo, le duo o le squad? Quando giochi a Fortnite? Raga, io mi diverto tantissimo quando gioco con voi in squad, mi diverto tantissimo anche quando faccio le duo, però giocare in singolo secondo me è un'emozione veramente assurda! Amo le partite in singolo, più di ogni altra cosa, fatemi sapere invece qual è il vostro miglior tipo di gioco quando fate le vostre partite! Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare ragazzi della nuova modalità parco giochi, sì ragazzi il parco giochi in realtà se ve lo ricordate fu la prima, primissima LTM perché nacque come una modalità a tempo limitata, voluta talmente tanto dalla community, ci fu un successo veramente assurdo per quando uscì il parco giochi che fece crashare dopo 15 minuti tutto di Fortnite siamo stati giù per 4 ore, me lo ricordo bene prima modalità che diventa tuttora un must to have, quando aprite Fortnite tantissimi ci giocano Beh ragazzi, arriva un leak davvero interessante che dice Un updated version of Playground appears to be in works, una nuova modalità di parco giochi, un aggiornamento del parco giochi sembrerebbe che sia in lavorazione e la domanda è che cosa cambierà? Ragazzi, sembra che nel prossimo parco giochi ci sarà la possibilità di giocare in 40 contemporaneamente Adesso io non vorrei che Epic Games facesse il passo falso che ha fatto quando è uscito parco giochi Che gli crasha tutto perché non gli tengono? Ragazzi 40 in parco giochi secondo me è esagerato Però staremo a vedere se potenzieranno i server Arriva anche un aggiornamento per quanto riguarda invece la patch 10.31 che arriverà praticamente martedì Se non ricordo male o comunque se non mi vado a sbagliare Tre fix, li conosciamo di già Sistemeranno dei problemi con l'audio che a volte non è corretto Sistemeranno finalmente il problema del build che succede a molti di voi A volte si frizza un attimo il gioco o a volte non vi fa mettere le scale nel vostro box uno per uno E modifiche anche per i giocatori da mobile dove sistemeranno Sembrerebbe che incrementeranno ancora di più la sensibilità per le costruzioni E andiamo avanti con il prossimo argomento Molto rapidamente ve l'avevo già fatto vedere anche ieri su Instagram Ma ve lo riporto anche su YouTube In un catalogo cartaceo in Inghilterra di un negozio di una catena di negozi di giocattoli Si chiama UK in store e toys and gaming roba del genere C'è come vedete in questa immagine un richiamo ad una skin Allora questa è un Xbox 360 che viene venduta con dentro La coppia digitale di Fortnite e una legendary evolving skin Quindi un'evoluzione leggendaria di una skin Allora potrebbe essere la skin Ion Però nella pagina precedente che è questa Quella di là è la successiva Non viene fatta vedere la Ion Vuoi dire che per caso ci sono lasciati qualche Cosa che Epic Games ufficialmente non ci ha detto E probabilmente potrebbero arrivare delle evoluzioni nelle skin Sarebbe sicuramente un passo che potrebbero fare Quelli di Fortnite ovviamente evoluzioni Per quanto tempo si gioca con una skin che stanno ad indicare Semplicemente delle modifiche estetiche Non voglio aprire questo argomento perché è enorme e lunghissimo Però ci starebbe veramente un casino E voglio arrivare ragazzi all'argomento Quello che vi dicevo più incredibile In assoluto però parto facendovi vedere Un'immagine Questa immagine avete riconosciuto che cos'è? Dai che l'avete riconosciuto Praticamente è la base del Rocket Prima di dirvi tutto Vi lascio con una clip Incredibile E allo stesso tempo Nostalgica E allo stesso tempo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.